in seguito dai cinghiali ragazzi sono scappato via appena scappato dagli cinghiali ragazzi sono riuscito anche a inquadrarne i piccolini guardali guardalo lì guardalo là guardalo là guardali in un altro è che mi stanno seguendo no no ragazzi meglio che me ne vado meglio che me ne vado perché c'è sulla madre cinghiali appena lì sopra che grugniscono con la madre è meglio che me ne vado via ragazzi meglio che me ne vado via meglio che scappo piccolini di cinghiali però sento grugnire sento grugnire loro ma mi sa che c'è in giro ovviamente la madre perché quei due piccolini ma no ragazzi qui è meglio che me ne vado via questi sono piccolini e mi hanno seguito piccolini ok non ho paura dei piccolini ma se qua mi arriva fuori un cinghiale di inquintare e mezzo la mamma soddolori no no via 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 da qua quindi Grazie.